Palazzo Lascaris, il 30 marzo, ha ospitato la giornata informativa su Ragazzi in Aula, edizione 2012. Nell'incontro, rivolto ai docenti interessati all'iniziativa, è stato illustrato il progetto di Open Government, che consente ai giovani delle scuole secondarie di secondo grado di essere accolti in consiglio regionale per conoscere i processi decisionali che caratterizzano l'Assemblea legislativa. Ragazzi in Aula, dal 1998 ad oggi, ha coinvolto 4100 studenti piemontesi e per l'edizione 2012 è prevista in via sperimentale la partecipazione dei consigli comunali dei ragazzi. Nel corso dell'anno agli studenti verrà fatta vivere l'esperienza di redigere una proposta di legge in riunioni che simulano i lavori di una commissione consigliare. Poi le proposte saranno discusse, esaminate e votate in una particolare seduta dell'Assemblea legislativa con i ragazzi che impersoneranno i consiglieri regionali. Per la presentazione dell'edizione 2012 è stata realizzata una nuova pagina del sito del Consiglio regionale. Sotto spazio ragazzi si trova Ragazzi in Aula, che contiene i documenti per partecipare all'iniziativa, tutte le informazioni sulla passata edizione, i comunicati stampa e i video delle sedute delle edizioni precedenti e i vari riconoscimenti ottenuti negli anni.